Quando un bambino nasce prima del tempo, crea nei genitori, come è noto, un momento di disorientamento, di paura, di ansia per la salute del bambino, per la formazione della famiglia e per quelle che possono essere anche le conseguenze a distanza sulla salute del bambino stesso. E quindi è un momento di grande fragilità della coppia, oltre che la grande fragilità del bambino. Il bambino in quel momento ha le cure mediche che lo sostengono, che lo aiutano, che lo conducono ad uscire da quella situazione di fragilità, mentre i genitori si devono affidare a quello che è il contesto che li circonda in quel momento, e il contesto è quello dell'ospedale. Nell'ospedale chi è a contatto 24 ore con il paziente, sia esso grande che piccolo, sono gli infermieri. Ed è quindi agli infermieri che in quel momento, in quei momenti di tranquillità, in quei momenti di riflessione, spetta il compito di sostenere la coppia, di sostenere il singolo genitore che in quel momento è più fragile, a superare il momento di difficoltà, di preoccupazione e aiutarlo a vivere quei momenti con tutta la serenità possibile, in modo da tenere le energie a disposizione per quando il bambino tornerà a casa. Perché i bambini nati prematuri tornano a casa e tornano a casa molto spesso, prima del previsto e generalmente senza tutte quelle cup e previsioni che frenano la serenità dei genitori e che impediscono loro di vivere la gioia di una nascita. Quindi vedo l'infermiere come l'erogatore di prestazioni assistenziali per il bambino, ma come ruolo di importante sostegno della famiglia, del genitore e come stimolatore delle capacità residue di recuperare tutte quelle forme di resilienza che le persone hanno nei confronti della difficoltà che li ha travolti e sommersi per quel breve periodo della loro vita.